Ben ritrovati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Parliamo di cronaca partendo da Trapani dove un 19enne, un giovane pregiudicato, è stato arrestato e condotto in carcere. Era già ristretto ai domiciliari ma più volte ha violato la misura. Per lui, come detto, si sono aperte le porte del carcere. I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato un pregiudicato di 19 anni in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della pena emessa dal Tribunale di Trapani con la quale è stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con quella della detenzione in carcere. Il giovane, denunciato per ricettazione dagli stessi militari nel settembre scorso, quando a seguito di un controllo alla circolazione stradale era stato trovato in possesso di un motociclo oggetto di furto, era stato sottoposto nell'agosto 2022 al divieto di avvicinamento alla persona offesa e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per lesioni aggravate e violenza privata nei confronti di un giovane poco più grande di lui, ma a seguito di presunte violazioni della misura si era ritrovato ai domiciliari. Da subito, insofferente alla nuova misura restrittiva, avrebbe più volte lasciato il proprio domicilio senza autorizzazione, venendo sorpreso dai carabinieri che l'avevano denunciato per evasione. Al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani. Sempre a Trapani, negli ultimi giorni, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto tre persone per vari reati. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Sono tre le persone arrestate negli ultimi giorni dagli agenti della squadra mobile della Questura di Trapani. In particolare, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, a seguito della condanna a oltre tre anni di reclusione, sono finiti in carcere un 21enne e un 23enne originari di Erice, che nel 2019 avevano rapinato due passanti nei pressi delle mura di Tramontana. Gli operatori della Polizia di Stato hanno anche tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani, un 43enne condannato a due anni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il quale, nel 2020, era stato arrestato nel quartiere San Giuliano perché trovato in possesso di diverse dosi di droga, tra cui cocaina, crack e hashish. Cambiamo argomento, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti e dei servizi specifici svolti dalla Polizia di Stato a Messina. Poliziotti che hanno tratto in arresto un 34enne, il quale nascondeva la marijuana da spacciare dentro un vaso in balcone. Il servizio. Nel corso di specifici servizi antidroga realizzati dalla Questura di Messina, la squadra mobile e le volanti, con l'ausilio di un'unità cinofila della Questura di Catania, hanno proceduto all'arresto di un 34enne messinese indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La perquisizione domiciliare a suo carico, nel villaggio di Santa Lucia sopra Contesse, ha portato al rinvenimento di circa 170 grammi di marijuana. La droga, allo stato erbaceo, era suddivisa in due involucri in cellofan ed occultata all'interno di un vaso in plastica posto nel balcone di casa. I poliziotti all'interno dell'abitazione hanno rinvenuto anche contenitori in vetro contenenti tracce della stessa sostanza stupefacente, nonché tre bilancini digitali di precisione. Sequestrata anche la somma di 1.195 euro, probabile provento dello spaccio, è un'agenda riportante nomi e cifre verosimilmente riconducibili alla medesima attività illecita. Costatata infine la presenza di un sistema di videocamere installato all'esterno dell'abitazione del 34enne, che con ogni probabilità gli consentiva di osservare quanto accadeva lungo la strada adiacente al suo immobile, prevenendo così i controlli delle forze dell'ordine. Uno schermo posizionato in camera da letto, infatti, è risultato collegato a un dispositivo che riproduceva quanto inquadrato dalle telecamere. Tutto il materiale riconducibile all'attività di spaccio è stato ovviamente sottoposto a sequestro. Subito dopo l'arresto, su disposizione dell'autorità giudiziaria, il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Spaccio di droga anche a Favara, nell'Agrigentino. In questo caso la polizia ha tratto in arresto due coniugi che nascondevano la droga della propria abitazione. Le forze dell'ordine della tenenza di Favara e della sezione operativa della compagnia di Agrigento, con l'ausilio di due unità cinofile, hanno eseguito una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Agrigento e hanno arrestato in flagranza di reato, per concorso in detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, due coniugi di 52 e 51 anni residenti a Favara, entrambi con precedenti penali. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato nella casa dei due 28 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e oltre 3.400 euro in contanti, denaro sospettato di essere provento dell'attività di spaccio. Gli oggetti illeciti sono stati posti sotto sequestro e i due coniugi, dopo le formalità di rito, sono stati messi in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP del Tribunale di Agrigento ha confermato gli arresti e ha imposto a entrambi gli indagati la misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizioni. Ci spostiamo a Caltanissetta, dove la Polizia di Stato, nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della provincia, ha denunciato 5 persone, eseguito 9 perquisizioni e sequestrato Ascish. Come detto, sono 15 le persone denunciate all'autorità giudiziaria dalla Polizia nel corso dei servizi di controllo, 2 per detenzione di sostanze stupefacenti, 2 per danneggiamento, 3 per sostituzione di persona, 2 per furto, 2 per resistenza pubblico ufficiale, 1 per danneggiamento seguito da incendio e 3 per altri reati. Nel corso dell'attività amministrativa è stata ritirata cautelarmente una pistola, mentre sono 9 le perquisizioni eseguite dagli equipaggi in servizio di controllo nel territorio. Notizia da Catania, parliamo ancora di controlli, in questo caso effettuati dai carabinieri nel territorio, per una Pasqua più sicura e sono scattate diverse sanzioni. I carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno avviato un piano straordinario di controllo del territorio su tutta la provincia etnea. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini per i festeggiamenti della Pasqua e durante la classica scampagnata del lunedì dell'Angelo. Il piano straordinario ha già permesso di conseguire concreti risultati sul piano operativo. Al riguardo, il dispiegamento delle numerose pattuglie in tutta la provincia etnea ha consentito ai carabinieri di identificare oltre 300 persone e controllare più di 200 veicoli tra auto, moto e scooter, con conseguente accertamento di violazioni al codice della strada per un valore complessivo superiore ai 37 mila euro. A tutela inoltre dei consumatori che in questo periodo affolleranno gli esercizi commerciali, particolare attenzione è stata inoltre rivolta all'attività di controllo ai locali di somministrazione cibi e bevande con il supporto dei reparti speciali del NAS e del NIL. In tale contesto, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative a carico di due ristoratori di Piazza Federico di Svevia, rispettivamente per carenze igienico-sanitarie nella cucina-deposito-alimenti e per l'ampliamento dell'attività non comunicata all'autorità del titolare di una gastronomia di Viale Mario Rapisardi, dove erano stati posti in vendita 10 kg di pollame privi di tracciabilità e nei confronti dei proprietari di quattro attività operanti nel settore alimentare, nella zona pescheria, a vario titolo per occupazione del suolo pubblico, inquinamento acustico e abbandono di rifiuti. Non ultima, l'attività ispettiva ha inoltre riguardato anche i venditori abusivi di alimenti lungo il corso indipendenza nel quartiere San Leone, sanzionati per aver commercializzato prodotti in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative e dei requisiti professionali per la vendita, occupando altresì indebitamente la sede stradale. A questi sono stati sequestrati oltre 30 kg di prodotti ittici e 100 kg di alimenti ortofrutticoli e una quarantina di uova pasquali. Il valore complessivo delle sanzioni ammonta a circa 15 mila euro. Controlli anche della Polizia Ferroviaria in Sicilia nell'ambito della quarta giornata dedicata all'operazione denominata Stazioni Sicure. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Un indagato, 647 persone controllate, 176 bagagli ispezionati, 106 agenti impegnati in 55 scali ferroviari. Sono i risultati conseguiti dal compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia durante la quarta giornata dell'anno dedicata all'operazione Stazioni Sicure organizzata a livello nazionale dal servizio Polizia Ferroviaria lo scorso 5 aprile. Gli operatori della Polizia Ferroviaria anche con l'ausilio delle unità cinofile delle questure di Palermo e Catania hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione sui treni e in un deposito bagagli al fine di incrementare ulteriormente il livello di sicurezza in ambito ferroviario. L'operazione si è svolta sotto il coordinamento della sala operativa della Polfer che ha dislocato le pattuglie equipaggiate con metal detector manuali e palmari in base al flusso dei passeggeri in transito e nelle aree maggiormente sensibili. A Catania, nel corso di un servizio congiunto con la Polizia Municipale gli agenti hanno elevato diverse sanzioni per un totale di oltre 16.900 euro. Durante i controlli con personale della nona della Polizia Municipale quattro venditori ambulanti sono stati sanzionati per oltre 7.500 euro poiché svolgevano un'illecita attività e occupavano abusivamente il suolo pubblico. Agli stessi è stata sequestrata la merce posta in vendita che sarà devoluta in beneficenza. Infine, a Palermo, gli agenti durante i controlli hanno denunciato a piede libero un soggetto che si è rifiutato di declinare le proprie generalità. Atti persecutori nei confronti dell'ex convivente con questa accusa una 45enne finito agli arresti domiciliari a Giarre, nella Catanese. La Procura Distrettuale della Repubblica nell'ambito delle indagini a carico di un giarrese 45enne indagato per i reati di atti persecutori ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale Etneo la sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con quella della sottoposizione agli arresti domiciliari eseguita dai carabinieri della stazione di Giarre. Le indagini sono state alimentate dalle segnalazioni dei militari dell'arma relative a plurime violazioni delle prescrizioni imposte dalla pregressa misura restrittiva alla quale era sottoposto il 45enne. Quest'ultimo, infatti, nell'arco temporale compreso tra il gennaio e il febbraio scorsi avrebbe anche posto in essere attività volte all'intimidazione e alla minaccia dell'ex convivente una 49enne Giarrese. In particolare, nel periodo in esame avrebbe danneggiato l'autovettura della donna inviandole anche messaggi intimidatori determinando così l'adozione della più afflittiva misura cautelare degli arresti domiciliari ritenuta più efficace per la salvaguardia della vittima del reato. Un altro episodio di violenza invece avvenuto a Catania dove un uomo è stato infatti arrestato dagli agenti della Polizia di Stato è tradotto in carcere. Aveva picchiato la propria compagna e l'aveva anche minacciata di morte con un coltello. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. La scorsa serata personale delle volanti è stato inviato presso il campo nomadi di Via Crocifisso a Catania nella zona di San Cristoforo a seguito della richiesta di intervento da parte di una donna la quale ha poi riferito agli agenti di avere avuto una lite molto accesa con il proprio compagno anche egli rumeno. A causa della lite l'uomo era andato in escandescenza e l'aveva colpita con diversi pugni al capo. Non pago di quanto fatto lo stesso l'aveva minacciata di morte con un coltello. La donna impaurita per quanto subito era riuscita a scappare e una volta messasi al sicuro aveva chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti hanno subito individuato l'autore delle violenze e una volta bloccato lo hanno accompagnato in questura per gli ulteriori accertamenti. Dalla denuncia resa dalla donna i poliziotti hanno appreso che già in passato la stessa era stata vittima di altre aggressioni e minacce episodi che aveva già provveduto a denunciare all'epoca dei fatti. Una volta ricostruita la dinamica di quanto accaduto e circostanziato il contesto generale delle violenze subite dalla donna l'uomo è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate e associato presso la casa circondariale di Catania a Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida innanzi al GIP. Ci fermiamo qui chiudiamo questo appuntamento con Spazio Notizia ma l'informazione prosegue su Sicilia 24. A presto! SILENCIA Milano